Il progetto ha consentito di trasformare in punti di forza quelli che erano le condizioni al contorno di questa terrazza. Ci troviamo su una terrazza a circa 20 metri di altezza e questo limite è stato trasformato in un punto di forza. Si è lavorato molto sul concetto di vertigine e questo ha fatto sì che l'Hotel Now diventasse ancora più in sintonia con il mood di questo quartiere così vivace, così cosmopolita. Mi ha consentito veramente di portare valore aggiunto a questo immobile e a questo albergo. Per questo progetto Finint Investment si è avvalsa della collaborazione di professionisti e imprese di primario standing. Il progetto che ne è scaturito ha colto lo spirito che ha mosso Finint nel promuovere questo investimento. Mi ha consentito sostanzialmente di raggiungere l'obiettivo che c'eravamo prefissi che è quello di valorizzare questo spazio inizialmente inutilizzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.